Buongiorno e benvenuto a Guido Maestri, Lead Manager del Business per l'Italia di General Investment Partners. Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti. Il 2022 non è cominciato nel migliore dei modi. L'attacco russo all'Ucraina è sempre in primo piano e i mercati finanziari ne hanno affrontato le implicazioni economiche e politiche. Per quanto riguarda la politica monetaria, tutte le banche centrali stanno affrontando uno shock stagflazionistico su cui non possono fare molto. È pur vero che in un ambiente in cui l'inflazione è alta, le banche centrali manterranno un atteggiamento cauto. Ecco, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi secondo lei? In effetti il periodo è critico. Innanzitutto vorrei dire che fare previsioni oggi con il dramma ucraina in corso è ovviamente particolarmente complesso. Il dramma della guerra purtroppo è innanzitutto un dramma umano, ma si innesta in una fase delicata del ciclo economico. Il mondo si sta lentamente e fragilmente riprendendo da un altro dramma, il Covid, da cui peraltro, ricordo, non siamo ancora usciti. Molti dei temi che accennavi con la tua domanda quindi non sono figli della situazione attuale, della guerra, ma nascono già diversi mesi fa. La ripresa economica fragile, il costo dell'energia e delle materie prime, inflazione, i necessari interventi delle banche centrali. Tutti temi di cui dibattevamo già dalla seconda metà del 2021. Ovviamente acuiti ora con la guerra in Ucline. Proprio da qui la nostra riflessione sul tema del buy buy beta a caccia di alfa. Da diversi mesi oramai sosteniamo che avere portafogli beta 1, quindi esposti in modo direzionale, ai mercati poteva essere pericoloso. E questo si è manifestato proprio da inizio anno, in cui abbiamo visto e vediamo numeri negativi praticamente su tutte le classi di attivo, lasciando ben pochi spazi a investimenti con performance positive. Secondo noi quindi sempre di più è necessario avere portafogli non solo molto diversificati, ma anche esposti a strategie in grado di decorrerare gli investimenti. Viviamo in un contesto di mercato complicato in cui non è facile per un investitore fare sempre le giuste scelte o comunque cogliere le migliori opportunità. Quali sono le soluzioni secondo lei che potrebbero andare bene in questo momento? Come dicevamo, secondo General Investment c'è un importante tema non solo in termini di diversificazione, ma anche e soprattutto di decorrelazione. Guardando alle possibili soluzioni di investimento offerte dall'ecosistema di General Investments, abbiamo ritenuto opportuno focalizzarci già dallo scorso autunno su strategie cosiddette goal-based, cioè strategie che hanno un obiettivo di rendimento dichiarato. In concreto questo significa che i gestori non hanno un approccio tradizionale volto a battere il loro benchmark di riferimento. Per loro non è importante quanto azionario o quanto obbligazionario mettere in portafoglio per battere il benchmark, ma diventa essenziale la strategia per raggiungere l'obiettivo. In questo tipo di approccio il focus del gestore è unicamente quello di raggiungere l'obiettivo di rendimento proposto. Questo implica l'utilizzo, ad esempio, di strategie long-short, di tecniche di relative value, piuttosto che la ricerca di decorrelazioni naturali come oro o real estate. Un caso pratico è, per esempio, Planisphere Investments, in cui i gestori diversificano il portafoglio utilizzando strumenti anche non particolarmente convenzionali, come Carbon Certificates, piuttosto che guardando di investimenti come Uranio o Platino. Insomma, un approccio non convenzionale volto al raggiungimento di un obiettivo concreto. Parliamo dunque di investimenti alternativi, poco correlati al mercato, innovativi, long-short, comunque sempre a gestione attiva. Ecco, in questo caso, che tipo di soluzioni offre l'ecosistema di general investment? Come ti dicevo, la nostra strategia si focalizza sul tema del buy-buy beta a caccia di alfa. Due, in particolare, le idee di investimento che stiamo proponendo in questi mesi. Una è una strategia di Aperture Investors, la nostra boutique americana, Aperture Investors SICAV Credit Opportunities Fund. Si tratta di una strategia long-short sul credito globale, che ha opportunità di diversificare il portafoglio utilizzando anche strategie di relative value e special situation. Il gestore ha l'obiettivo di perseguire un rendimento assoluto positivo su base annua. Il benchmark di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance, infatti, è SOFR, quindi cash in dollari, più 2%. L'altra strategia in focus è gestita invece da Planisphere Investments e si chiama Planisphere Investments SICAV Destination Value Total Return Fund. La strategia ha un obiettivo di generare un rendimento pari all'8% medioanno in dollari, su un ciclo di mercato di 5 anni, con il 75% della volatilità dell'azionario globale. In entrambe le strategie, il baricentro del gestore si sposta quindi dal battere il benchmark a ottenere un risultato positivo per l'investitore. Ovviamente parliamo di obiettivi di rendimento e non di garanzia. Bene, ringrazio Guido Maestri, il manager retail business per l'Italia di General Investment Partners. Grazie Silvia e grazie a tutti. Grazie a tutti.